Emilio Fornari è un uomo di successo, giovane e affermato penalista all'esercizio della professione, gli dispensa una vita agiata e frequentazioni importanti. Come se ciò non bastasse, ha una fortuna sfacciata con le donne. A stravolgere però questa esistenza, un'oscura minaccia di distruzione che incombe sul mondo intero. Coinvolto in situazioni più grandi di lui, Emilio scopre di essere una pedina fondamentale per la risoluzione di un dramma globale. E questo l'inizio di Protocollo Alfa, l'ultimo lavoro dello scrittore Diego Perugini, presentato in anteprima a Napoli nel chiostro di San Domenico Maggiore. Un libro che ha ritmo, che ha carica, è un ritmo di avventura ed è anche un libro d'amore, quindi è un libro con cui si possono passare delle ore liete. La macchina narrativa prende avvio sin dalle prime pagine, trasportando il lettore in un vortice di eventi mozzafiato, dove le grandi potenze internazionali manovrano tra le quinte in un gioco spietato per il potere. Il volume è stato patrocinato dall'assessorato alla cultura del Comune di Napoli, diretto da Anna Maria Palmieri. Colpi di scena... E' particolarmente interessante, nell'ambito della nostra programmazione culturale, che vede qui a San Domenico la presentazione di libri, dibattiti, discussioni, reading, di ragionare degli effetti della pandemia, non soltanto sulla vita quotidiana, ma anche sulla letteratura. Colpi di scena, personaggi indimenticabili e agguati, in cui Emilio si dovrà confrontare con ogni sorta di pericolo, tra cui uno davvero mortale ai suoi occhi, quello di innamorarsi. A tenere a battesimo il volume anche il presidente della BCC Napoli, Amedeo Manzo. Parlare di due, diciamo, due menti che tirano fuori un elemento che può contagiare il mondo e un avvocato che mette a disposizione la sua esperienza, le sue capacità, intersecando con una storia d'amore, ma mettendo insieme l'intelligenza di tre paesi, con una storia che va da Tripoli a Roma, altrove, il rapporto con Mosca, credo che sia qualche cosa di estremamente avvincente. Grazie.